La tassazione maggiorata sulle vendite di immobili ristrutturati con il Superbonus è ufficialmente in vigore. Una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate ha delineato le istruzioni dettagliate per l'applicazione del nuovo regime di plusvalenze stabilito dalla legge di bilancio 2024. La legge si applica a tutte le tipologie di immobili che hanno soffrito di interventi agevolati, indipendentemente da chi abbia effettuato i lavori. Grazie a tutti.